Marco Albertelli, responsabile del settore femminile dell'Ovatese Calcio. Quando è nato questo gruppo femminile? Allora, noi abbiamo iniziato a riportare il calcio nelle scuole 5-6 anni fa, a fare promozione, e da subito ci siamo resi conto di come la risposta da parte delle ragazzine era straordinaria. C'era entusiasmo, c'era voglia di partecipare, c'era la richiesta, ma come mai non c'è niente per il calcio femminile? Da lì è partita questa idea, un'idea che è rimasta latente per qualche anno, poi tre anni fa questo gruppo che ha partecipato ai campionati studenteschi col professor Lombardi e la scuola di Molare mi ha fatto questa richiesta di provare a fargli fare un po' di calcio. E da lì è iniziato tutto, abbiamo iniziato con 12 ragazzine di ogni leva, dalle 2003 alle 2010, adesso abbiamo una quarantina di ragazze, abbiamo partecipato quest'anno fino a che le condizioni l'hanno permesso al campionato Under 15 femminile, l'ultima partita abbiamo giocato col Torino al Geirino facendo anche un'ottima prestazione, abbiamo le Under 12 che partecipano agli esordienti misti, e oggi con questa giornata di Open Day cerchiamo di aumentare il gruppo delle ragazze più piccole per provare a fare anche l'Under 10 il prossimo anno. Il nostro slogan è che il gioco e lo sport non hanno genere, quindi tutti i ragazzini, maschi e femmine, devono essere liberi di scegliere quale attività li gratifica di più e li appassiona di più. In questa direzione abbiamo lavorato sdoganando una cosa che era impensabile soltanto qualche anno fa. Abbiamo come allenatrice un nome del calcio femminile. Lidia Fossati, capitano storico del Borghetto, qualche anno fa purtroppo si è infortunata, ha dovuto cessare la carriera da giocatrice, però da un lato è stata una fortuna perché ha partecipato al corso UEFA B prendendo il patentino e adesso è la nostra allenatrice del gruppo delle Grandicelle che ha partecipato al campionato Under 15 e che un altro anno iscriveremo al campionato Under 17. Con l'entusiasmo sicuramente di avere questo gruppo che continua a seguirci e che speriamo possa aumentare anche grazie alla giornata che abbiamo organizzato oggi. Quindi le ragazze ci danno una grande forza, voglia di continuare a crescere e speriamo che per loro sia una bella palestra per diventare qualcosa in futuro.